Il presidente della regione Calabria e commissario ad acta della sanità Giuseppe Scopelliti ha tenuto oggi a Catanzaro una conferenza stampa per illustrare i risultati ottenuti nel settore. Scopelliti ha vantato in particolar modo il risparmio che le politiche attuate nella sanità hanno comportato ai cittadini calabresi. I dati che abbiamo ufficializzato questa mattina dimostrano che per il 2013 quelle tasse aggiuntive che i calabresi hanno pagato negli anni precedenti, lo 0,15 IRAP e lo 0,30 tradizionale IRPF, quest'anno le pagheranno. Quindi c'è un risparmio di 54 milioni di euro che dimostra che il percorso che abbiamo intrepreso sul versante della sanità sia rispondente a quelle che sono le istanze che arrivano dal governo centrale e che ovviamente all'aspetto economico stiamo cercando, lo faremo certamente nel tempo, di far quadrare anche l'aspetto prettamente sanitario. Il commissario è anche intervenuto sulle criticità ancora da superare. La criticità ovviamente è quella legata al tema della rete ospedaliera che va ovviamente sempre più potenziata, la rete dell'emergenza urgenza e stiamo per realizzare anche la rete territoriale. Però sappiamo molto bene che queste cose non si realizzano in giro di pochissimi mesi né di pochi anni. C'è bisogno di tanto lavoro, però questi dati già dimostrano che quando noi sul piano economico funziona il sistema abbiamo la credibilità e l'apprezzamento dei tavoli e dei ministeri romani, dei ministeri competenti che abbiamo sicuramente offerto alcuni spunti anche questa mattina, del grande lavoro fatto all'interno anche dell'aspetto sanitario, dell'appropriatezza, del parto cesario, a tutta una serie di elementi che abbiamo dimostrato e che abbiamo messo in campo, questo dà la dimensione del grande lavoro, della mola di lavoro che stiamo portando avanti e dei risultati eccellenti che nel tempo potremo conseguire. Grazie a tutti.